Il prossimo servizio vai con la pubblicità! Caffè Garibaldi a Gorizia! È uno storico locale della vecchia borghesia austriaca e della nobiltà italiana dopo il 1918 come vediamo anche dalle foto qui in video Oggi invece è un locale frequentato dalla crema di Gorizia Il titolare Dennis vi offre vini delle migliori case vittivinicole Potete organizzare feste di laurea, compleanni ma anche a dia al celibato e nubilato e cene di lavoro Dennis e il suo team di barman vi aspettano allo storico Caffè Garibaldi in Corso Italia 49 nel centro di Gorizia Benissimo, ecco qua un locale storico veramente eccezionale Guarda i locali Sì, con i migliori vini, guarda qua Nelle migliori marche, guarda c'è anche Garibaldi Garibaldi, di fatti per i 150 anni ci sono queste varie marche di vini veramente speciali che potete gustare al Caffè Garibaldi di Gorizia Ecco Malvagia, Sardonnay, Pinot Grigio E poi il bello è che potete benissimo venire a pranzo perché potete pranzare in questo Caffè Garibaldi Guarda con che macchine che arrivano! E poi c'è anche il parcheggio per le limudine, ricordiamolo Eccoli qua, sì esatto, ecco i barman che abbiamo visto Allora vi ricordo, cari amici, Caffè Garibaldi a Gorizia Corso Italia 49 Fine della pubblicità Ecelnato